buonasera gentile pubblico io ho già presentato a nome dell'amministrazione questa mirano oltre però ci tengo a introdurre proprio con un saluto ringraziamento sia lo scrittore tiziano scarpa a voi molto noto perché vedo persone che lo conoscono lo leggono e anche al trio diretto da massimo donà ecco questo è il secondo appuntamento il terzo sarà giovedì prossimo nel frattempo però martedì parte sempre su questo spazio la piccola stagione teatrale di teatro amatoriale che sarà a mirano estate teatro in villa e che è organizzata assieme al comune dal portico teatro club al cui noi dobbiamo un grande ringraziamento perché ha dovuto interrompere la sua stagione primaverile che era arrivata il settimo appuntamento ed era molto seguita e per fortuna riusciamo a fare qualcosa in questa situazione inoltre per coloro che questa settimana avessero ancora voglia di spostarsi di musica sabato sera ma non qui bensì in corte errera in un'altra bella cornice ci sarà il concerto della filarmonica di mirano e per il quale è consigliabile prenotarsi presso l'ufficio cultura vi ringrazio ancora buona serata a te massimo ecco qua grazie prendo lo spunto dalle prenotazioni per il concetto della filarmonica per dire che ormai sono rimasti pochissimi posti perché purtroppo ne abbiamo soltanto 180 di sedi e non possiamo metterne una di più per le norme sia del covid sia della sicurezza che in questo caso si sommano e quindi sta per finire la prenotazione per giovedì prossimo quindi per francesco vidotto per il trio dada roberto denitis zoe pia e marcello benetti per cui se uscendo volete potete magari cogliere l'occasione per segnarvi se no potete farlo da domani in libreria come al solito perché il comune ha chiuso la sua parte di prenotazioni non ne raccoglie più proseguono fino a chiusura penso che in fine settimana chiuderemo penso è in libreria e questa sera riavviamo come ospite a mirano oltre perché l'aveva inaugurata scopre scorrendo la lista dei memorabilia noi siamo partiti qui nel 2009 grazie a giuliano benetti che vogliamo sempre ricordare e ringraziare per questa bellissima idea di cultura e di arte a mirano e gli abbiamo portato anche fortuna perché tornando a casa dopo il suo spettacolo Stabat Mater hanno dato la premiazione del premio strega che tiziano nel 2009 vinse con Stabat Mater e speriamo di portargli altrettanto fortuna questo bellissimo ultimo romanzo che presenta questa sera in dialogo come noi sempre proponiamo con la musica di mio fratello massimo e dei suoi collaudatissimi e fedelissimi partner che da anni lo seguono in primis della sua generazione davide ragazzoni alla batteria e michele polga a sax tenore massimo donatrio tiziano scarpa grazie a giovedì prossimo grazie al comune di mirano all'assessora cibin e grazie a claudio donna ea caligola ma avete visto che luna che c'è lo so io non sono papa giovanni come chi si ricorda ecco però avete visto che luna che c'è lì dietro è una cosa io direi di passare un'oretta così a contemplare la luna cioè non saremo mai all'altezza di quella cosa lì vabbè si fa quel che si può e cosa si può fare stasera si può per esempio legge siccome è una storia talmente movimentata avventurosa piena di colpi di scena ho pensato gli do qualche tappa di questo arco era impossibile e allora niente prendetelo così sono delle pagine sparse non ve le collo con neanche non vi sto a spiegare vi dico solo che se entrate nella penultima magia all'inizio e non dico di più ma solo all'inizio dite ma dove sono capitato cioè è una cos'è questa roba è una favola dove le co gli oggetti parlano i lampioni camminano per le strade le caffettiere fanno la colazione e fanno la festicciola alla padrona di casa ma cosa cosa ho preso è all'inizio diciamo è così ma anche un po più avanti per esempio nel capitolo ma solo fino a un certo punto un quarto del libro neanche ecco per esempio a un certo punto si discute il sindaco e il suo tuttofare il ragioniere ragionier zinchi discutono su come è stata organizzata questa città da parte di renata una signora anziana sovrana e fata ma di questa città e il ragioniere qui parla con tutta la città parla con i lampioni le case le edicole i tombini di fronte a fata renata al sindaco e a tutta la popolazione che è venuta a rivolere indietro la propria città non è colpa vostra è colpa sua disse indicando fatta renata è lei che vi ha ridotti così si fece avanti un lampione con una lampada gialla in cima era proprio bolla gialla si chiamava così come sarebbe ridotti obiettò siete voi che mi avete praticamente ammazzato con le vostre bombe prima se non era per la signora fata adesso io sarei morto disse il lampione e si curvò fino a lei che gli fece una carezza sulla faccia di vetro ma vi sembra normale che un lampione si aggiri per la città disse il ragioniere zinchi prendendo sempre più coraggio mentre si avvicinava era alto quasi come bolla gialla che si chinò ad ascoltarlo con un'espressione austera era bello vederli parlare faccia a faccia no che non mi sembra normale disse il lampione mi sembra eccezionale straordinario fantastico posso andarmene in giro nella notte mentre tutti dormono fare due chiacchiere con i colleghi bere un chinotto al chiosco delle bibite quando fa caldo e una tazza di cioccolata quando fa freddo bravo così mentre tu ti fai le tue belle passeggiate la tua strada resta al buio disse il ragioniere zinchi sei un lampione inservibile sono un lampione libero sei inutilizzabile sono utilizzabile in tanti modi diversi dal solito posso intervenire dove c'è un blackout posso accompagnare a casa le persone che rientrano da sole a notte fonda e hanno paura posso ondeggiare nel vento per segnalare l'arrivo della tempesta o per salutare gli aerei che passano in cielo posso un lampione non deve potere un lampione deve starsene al suo posto disse il ragioniere zinchi mettendolo a tacere la sua voce era sempre più tagliente e la faccia era diventata severissima incuteva timore molti lo ascoltavano ammutoliti altri in silenzio altri senza dire una parola altri ancora senza far motto anche il sindaco e fatarenata erano stati presi alla sprovvista dal suo piglio risoluto vi siete montati la testa disse il ragioniere gridandolo a tutta la città schierata davanti a lui parlava agli alberi alle case ai lampioni alle panchine che fecero un passo indietro spaventate tu disse il ragioniere puntando il dito su una fontanella quella si guardò a destra e a sinistra come sperando che non si stesse rivolgendo a lei io disse timorosa sì tu ripete imperiosamente il ragioniere vieni avanti la fontanella saltellò docile fino a lui il ragioniere protese su di lei la sua mano dalle lunghe dita e aprì la manopola dal rubinetto uscì un getto di coriandoli coloratissimi scesero a fiotti ma a pochi centimetri prima di toccare terra i coriandoli si unirono a coppie e formarono delle farfalline che si impennarono verso l'alto battendo le ali di carta e risalirono in aria volarono più in alto si sparsero intorno a stormi arrivarono fino all'esercito nemico dissero i bambini e le bambine e anche i grandi sorridevano con il naso all'insù la fontanella era tutta contenta di essersi conquistata il favore del nemico diffondendo il buon umore nelle sue file e fatarenata la guardava con approvazione e compiacimento brava la elogiò che bello bello un accidente sbraitò il ragioniere zinchi che fontana è una fontana che non dà acqua farfalline di carta ma stiamo scherzando che me ne faccio di una manciata di coriandoli se ho sete e non posso bere la fontanella chinò il capo costernata questa questa non è più una città continuò il ragioniere la vostra padrona vi ha illusi vi ha fatto credere di essere quello che non siete e infatti noi che prima eravamo e stavamo così bene con voi insieme a voi e grazie a voi il ragioniere parlava rivolgendosi agli alberi alle case alle strade abbiamo dovuto abbandonarvi vi abbiamo lasciati soli perché in un posto così ci può sopravvivere soltanto lei guardatevi siete deserti non sentite più le voci dei bambini che giocano delle donne che cantano dei vecchi che raccontano le loro storie e adesso ascoltiamo la storia che ci raccontano a modo loro con la musica massimo donà michele polga e davide ragazzoni grazie 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 grazie